Grazie, veramente, veramente grazie. Sono sinceramente molto contento di tutto questo. Sono contento... sì, seduti. Sì, seduti, seduti, seduti. Sono contento soprattutto... soprattutto della sincerità. Ecco, va bene. C'è una signora anziana lì. Dai. Stai le bravi. Vi dicevo, sono molto contento perché questa vostra sincerità è così rara, è così piacevole. E' piacevole avermi affidato non solo la vostra, la vostra piccola e magica vita, ma aver poi trasmesso a quelli che sono venuti dopo, probabilmente per molti di voi, ai vostri figli, questa piccola belleità, questa piccola follia. Questo... questo mi fa bene. Mi fa bene riuscire a... a non lasciarvi, anche se con la mia onestà non... non posso purtroppo supportare magari la misura di non riuscire a darvi quello che vi ho dato fino a oggi. per ragioni che posso anche in parte spiegarvi che sono gli spazi, che sono la mancanza di volontà e soprattutto la gioia di vivere che forse si riesce a ritrasmettere grazie a tutti. Grazie.